8 così poi mi ritrovo il video da caricare anche su youtube quindi ricordo a chi ci segue su youtube mediamente non tutti i giorni ma un giorno sì un giorno no alle 13 e 30 betting in pausa pranzo facciamo una diretta su twitch allora audio in ritardo mi sembra non lo so a me qua mi risulta tutto connesso fatemi sapere se migliora l'audio tra l'altro vedo che c'ho la faccia iper bianca ci sta qualche luce che spinge troppo vi faccio vedere la sigla e ci andiamo a studiare la champions sigla benissimo eccoci di nuovo allora siamo all'interno del superfoglio perché siamo all'interno del interno del superfoglio per studiare la champions non è ancora attivo lo stiamo lavorando per averlo per gli europei l'algoritmo che lavorerà sulle coppe e sulle nazionali faccio questa breve introduzione perché visto che oggi è tema champions league può tornare utile capire come lavora l'algoritmo allora per le coppe per le nazionali sappiamo bene che non possiamo fare il picchetto tecnico perché se anche andassimo a vedere le partite delle singole squadre nel loro campionato il valore è diverso rispetto agli altri campionati cioè se prendiamo la prima in germania ha un valore diverso che se analizziamo la prima in polonia quindi fare il picchetto tecnico delle coppe non è non è molto indicato si può fare però lascia il tempo che trova secondo me mentre per per le nazionali è proprio completamente impossibile perché non c'è nessun termine di paragone questo cosa comporta se ci fate caso quasi sempre in coppa in champions si trovano quote più alte perché anche il bookmaker ha la nostra stessa tra virgolette difficoltà a schematizzare quella partita tramite le quote ovviamente al book questa cosa interessa meno perché con l'allibramento un po' si si sistema noi siamo invece siamo privi di un termine di paragone quindi so che ci sono già dei servizi che fanno un ragionamento secondo me giusto ossia studio la quota vergine vedo com'è la quota vergine e in base a com'è la quota vergine estrapolo delle percentuali di com'è finita la partita il ragionamento è giusto però dal mio punto di vista è anche incompleto perché la quota vergine subisce delle variazioni e spesso viene data all'incirca 10 giorni prima 12 giorni prima sui campionati principali quindi secondo me è un po' limitante perdersi quello che accade in quei 12 giorni perciò il nostro algoritmo del superfoglio come ragionerà prendo la quota vergine prendo la quota più vicina possibile cioè lui mi dà la quota attuale però io che lo devo andare a studiare dovrei aspettare il più tempo possibile quindi quota vergine quota attuale e all'ibramento e a quel punto faccio ogni partita che ha cominciato con questa quota vergine si è trasformata in questa quota attuale e ha avuto questo all'ibramento è finito in questo modo quindi praticamente aumento i parametri di controllo perché secondo me controllare solo questo è stato il risultato finale è giusto però è anche un po' si perde un po' troppe maglie un po' troppe opportunità quindi noi cerchiamo di fare questa configurazione qui ed è per questo che la presentazione è all'interno del superfoglio perché poi ci avremo finalmente le coppe e le nazionali all'interno del superfoglio nello specifico poi ci andiamo a studiare qui real madrid celsi allora real madrid celsi al real madrid manca ramos al celsi manca kovacic ramos diciamo tra quelli principalmente più importanti la quota del real aveva aperto a 225 adesso si trova a 230 quella del celsi aveva aperto a 325 si trova a 340 questi sono rialzi molto marginali però di fatto cioè questo 225 con per esempio con cosa lo potremmo paragonare con nulla perché non abbiamo un termine di paragone quindi sapere il discorso tutte le partite cominciate con questa quota tutte queste variazioni e tutti questi allibramenti ci portano a partite che danno statisticamente questo risultato sono tre controlli che secondo me avranno un buon un buon valore credo e lo dico in totale sincerità che avranno comunque un valore un po meno preciso di quello dei campionati perché nel campionato adesso noi facciamo la stessa identica cosa però ci mettiamo dentro anche l'aspetto statistico quindi quella quota iniziale quella statistica quella quota attuale quella al libramento e quella variazione se la quota si è alzata o si è abbassata quindi ho 5 controlli che penso siano meglio che farne solo uno sia solo quella quota iniziale o solo quella statistica o solo quella al libramento fare solo un controllo è magari più semplice a livello mentale nostro lo dobbiamo andare a vedere solo dal libramento però ci perdiamo troppe variabili quindi mentre per i campionati avremo questi 5 step per le coppe ci manca lo step delle statistiche che da solo in sé per sé non è fondamentale però secondo me diciamo che è l'aspetto base da cui partire quindi secondo me è importante averci anche quello e perciò credo non lo so perché l'algoritmo lo dobbiamo ancora finire però credo che sarà sempre un po' più preciso quello sui campionati però bene o male se uno in coppa magari fa giocate più cautelate in automatico dovrebbe avere un buon un buon riscontro come già ce l'abbiamo sui campionati quindi venendo alla partita specifica allora Real Madrid viene dal pareggio in casa con il Betis e si sta lottando una liga veramente super indecisa sembrava che l'asletico Madrid per un tratto avesse preso il largo e si stesse a propinquando a vincere la liga e invece poi qualche piccolo passo falso come anche questo che ha avuto domenica con l'atletico Bilbao il campionato serie aperto tra l'altro piccolo aneddoto su questo Bilbao mi ha fatto saltare una schedina quota 27 mi sembra l'ho anche pubblicata su Instagram che mi ha fatto veramente rosicare non per la cifra perché ci avevo giocato 2 euro ma perché sostanzialmente la mattina mi arriva una mail da un bookmaker che non usavo da tanto tempo e mi dice guarda ti abbiamo dato un bonus da 2 euro per giocare quindi io mi sono andato a fare una multipla pazza così di quelle che prendi una volta ogni 10 volte che ci provi e la quota era 26 erano mi sembra 10 partite l'ultima partita era questa benedetta Bilbao-Atletico Madrid non c'avevo neanche il 2 secco c'avevo la X2 e niente è uscita l'esito 1 quindi la bolletta da 2 euro regalata dal book vincevo mi sembra 56 euro quindi niente di particolare però mi ha fatto un po' rosicare perché quelle 56 euro avrei potuto far ricominciare con singole raddoppi era un buon investimento e invece vabbè è andata così pazienza quindi il Real pareggia col Betis il Chelsea è andato a vincere il derby di Londra che oltre ad aver vinto un derby ha vinto praticamente quello che in questo momento era uno spareggio Champions perché West Ham e Chelsea stavano a pari punti al quarto o quinto posto quindi tre punti importanti che fanno sicuramente morale per il Chelsea francamente difficile dare un'opportunità sulla 1x2 perché le quote sono altissime però io andrei sulla 1x se dovessi rischiarmi un esito secco mi rischierei Real Madrid di certo non mi immagino il Chelsea che fa punti a Madrid vincendo magari al limite qui c'è questa X che sta calando però è veramente difficile inquadrarla da questo punto di vista le quote ecco questa per esempio è una variazione interessante le quote del goal sono passate da 1,66 per il goal a 1,75 per il no goal se io analizzassi solo la quota iniziale vedo 1,66 per il goal è sicuramente più da goal che da no goal qui invece c'è questa trasformazione così netta delle quote che non mi fa dire giocano goal mi fa dire fermi tutti non ci si capisce niente una cosa che ho notato e che noto spesso quando magari qualcuno mi scrive è che non c'è poco la concezione di studiare per non giocare cioè una volta che io una partita l'ho studiata devo per forza trovargli un esito questo secondo me è un po' limitante è un po' sbagliato perché se io da uno studio non ci ho capito niente o non ci ho capito niente io o non mi fanno capire niente le quote dovrei non giocarla perché non sempre da uno studio si evince un esito qui per esempio se mi apri a 1,66 e poi diventa 2 e quella da 2,10 diventa 1,75 non ci si capisce molto quale delle due è predominante andiamo a vedere l'over giusto per farci un'idea l'over era inizialmente l'over 2,5 a 1,90 adesso è salito a 2,50 l'under da 1,90 è sceso a 1,53 quindi qui anche il calo è ovviamente marcato però non c'era una favorita prima 1,90, 1,90 significa che il book non prendeva posizione su questa partita si sta prendendo posizione su meno gol io la interpreterei siccome mi sembrerebbe strano comunque una partita con due attacchi di questo genere che finisse 0 a 0 la interpreterei come un multigol 1,3 se dovessi fare una scelta su questa farei un multigol 1,3 quindi 1x multigol 1,3 per come la vedo io anche la x primo tempo sì intanto sto leggendo un po' di commenti 1x under 3,5 sì credo credo che ci sia questa opportunità 1x under 3,5 o 1x multigol 1,3 considerando che comunque parliamo della partita d'andata perché poi ci sarà da vedere il ritorno quindi non è una di quelle partite che si attacca fino alla morte per vincerla sicuramente il Chelsea se strappasse addirittura un pareggio sarebbe un'ottima cosa la x primo tempo ci può stare il Real Madrid in casa io lo vedo più tendente alla vittoria quindi diciamo che preferirei 1x under 3,5 oppure 1x multigol 1,3 che poi se andate a vedere è la stessa cosa cioè l'under 3,5 valuta la possibilità dello 0 a 0 il multigol 1,3 no semplicemente è questa l'unica differenza l'altra partita di Champions di domani è praticamente il match stellare tra gli emiri Paris Saint Germain, Manchester City allora qua vediamo un po' le quote qua abbiamo un City abbastanza più favorito a quota 2 addirittura lo apriva a 2,20 in questo momento ce lo abbassa a 2,05 l'1 lo apriva a 2,90 ce lo apporta a 3,25 l'esito goal da 1,50 sale a 1,61 perché in effetti il Manchester City con il tipico gioco di Guardiola tende a tenere talmente tanto palla che è anche un attacco stellare come quello del PSG potrebbe rischiare di giocare pochi palloni over in crescita anche questa dà tutti i segnali che vanno lontani dalla goleada se la vogliamo mettere in questo modo il goal cresce, l'over cresce in questo caso abbiamo favorito il City allora io rimango dell'idea che il Paris Saint Germain che ha battuto in quel modo il Bayern Monaco mi dà una sensazione di quadratura che finora non mi aveva mai dato leggendo qui dalle notizie informazione che cambia di molto la questione è la presenza o meno di Mbappé qua viene dato in dubbio è ovvio che se giocherà Mbappé secondo me l'esito goal è più probabile cioè lo rischierei se non gioca Mbappé questa è un'altra di quelle che probabilmente metterei una X2 over 1,5 senza esagerare anche in questo caso con i goal perché comunque non ci sarà un assalto all'arma bianca non è sorprendente se ci andiamo a rivedere partite di questo livello a questo momento della stagione quindi semifinali quarti di finale eccetera vedere due squadre del genere che magari finiscono 0-0 non è impossibile mentre all'interno di un campionato o comunque delle selezioni a gironi è più facile che facciano il proprio gioco attacco e quant'altro per una semifinale di coppa io credo che anche Guardiola un minimo più attento ci stia quindi X2 come inquadratura mi piacerebbe rischiare l'esito goal ma sarei più propenso a rischiarlo se ci fosse la certezza che anche Mbappé è in campo però altrimenti X2 over 1,5 intanto qui vengo a vedere il Chelsea e il Milan della Premier immagino che sia detta da un tifoso dell'Inter quindi ecco X2 over 1,5 mi sembra una quadratura che ci può stare su un match di questo genere poi giovedì ci abbiamo Villarreal Arsenal e United Roma allora io dico su United Roma subito che la Roma nelle ultime partite si è detto che aveva la testa a Manchester ok perdi col Parma perdi col Torino perdi col Cagliari in realtà col Parma ci ha perso già da un po' di tempo fa perdi col Torino perdi col Cagliari ok mi sta bene avere la testa a Manchester io quello che mi auguro è che a Manchester oltre alla testa ci avessero già mandato le palle perché la Roma ha fatto delle prestazioni inguardabili non è che non hanno giocato i titolari e quindi dici sai ci hanno i titolari riservati per la Coppa no hanno giocato comunque mediamente i titolari e hanno giocato senza palle ci sta qualcuno che sta rientrando dagli infortuni vedi Mkhitaryan che non sta al meglio c'è Veretout che non sta al meglio c'è Smalling che non sta al meglio però hanno giocato i titolari e non puoi perdere 3 a 1 col Cagliari o 3 a 2 quanto è finita e 3 a 1 col Torino Torino che ha vinto solo contro i noi cioè Torino che sta retrocedendo ha vinto solo contro i noi quindi io questa partita non mi sento di analizzarla temo che il Manchester detto proprio come si dice negli ambienti più fini ci rompe proprio spero che a Manchester ci abbiamo mandato le palle che riesci magari a strappare una X o una 1 X o magari perdere anche solo 1 a 0 spero di non andare a fare una figura brutta vista la Roma di questo periodo sinceramente secondo me c'è il rischio di farla figura brutta mentre più interessante quantomeno per me è Villarreal Arsenal perché in questo momento non ho la più palle idea di queste due squadre di cosa stanno combinando quindi me le vado a studiare così proprio al volo il Villarreal sta facendo una grande stagione è settima quando ha affrontato il Barca si stava battendo per il quinto posto quindi ottima stagione del del Villarreal mentre l'Arsenal che ha perso l'ultima con l'Everton mi sembra che in classifica stia un pochino più dietro infatti 46 non sta facendo una stagione brillantissima anche se diciamo che un minimo di possibilità di rientrare in corsa per l'ultimo posto europeo ancora ce l'avrebbe Tottenham 53 Arsenal 46 credo che sia un po' tagliata fuori un po' la stessa situazione che ci ha che ci ha avuto la Roma diciamo così quindi in virtù di questo io questa in casa un po' me la sposterei sul Villareale che mi sembra che sta messo un po' meglio qua le quote sono praticamente in ottica forbice quindi 2,45 2,90 vediamo se il gol il gol è molto alto e l'over 2,5 pure pure questa come vedete le quote non ci espongono mai partite con chissà quanti gol nonostante abbiamo visto anche squadre super offensive come il City e quant'altro della Roma non le voglio neanche andare a vedere le quote anzi le guardiamo ma temo che siano molto spostate sul Manchester ecco 1,53 questo ci fa proprio capire se finora abbiamo visto tutti i match super equilibrati il più favorito era il City a Parigi a 2,5 la Roma e va a Manchester a 1,53 quindi mi fa capire che anche i bookmaker ci vede ci vede male ci vede proprio proprio male si lo guardavo stavo leggendo i commenti sono veramente difficilissimi da studiare a parte il Manchester che ci danno già per spacciati e temo che sia così Villarreal Arsenal io vedo che manca la casetta che comunque la casetta è Aubameyang Ibor non so quanto sia determinante come giocatore onestamente vediamo un attimo non mi pare che gli manca proprio questo fenomeno quindi la sposterei sulla 1x ma Villarreal Arsenal è veramente difficilissima Manchester United Roma temo che pinca il Manchester tutto questo spero che quando torneremo ad averci il superfoglio cioè torneremo quando avremo il superfoglio anche sulle coppe credo che ci dia dei suggerimenti che in questo momento non si riescono a visualizzare studiando solo le coppe e le quote offerte dalle coppe invece il discorso che vi facevo prima quota iniziale quota attuale situazione nell'allibramento secondo me darà dei suggerimenti migliori anche perché il discorso poi viene fatto anche sul gol e sull'over quindi come diceva giustamente Federico prima probabilmente sarà più facile andare a studiare sui gol per le coppe e la penso assolutamente così e credo che ne avremo un buon un buon riscontro faremo un primo test sugli europei quindi con i nazionali vedremo insomma di di capire come si si proietta un algoritmo del genere altrimenti sapete benissimo chi magari mi segue da più tempo io finora sulle coppe non ho veramente mai scommesso in maniera se non così da passatempo e non è mai stata un un'effettiva fonte di investimento sempre preferito piccoli budget per divertimento speriamo che con la conclusione di questo algoritmo quantomeno si possa strutturare una metodologia di gioco un po' più puntuale credo che per oggi ci siamo detti tutti o se volete fare un check finale sui vostri pronostici mi volete dire secondo voi come finiscono le partite lo leggo volentieri dai commenti fede fa delle progressioni a 1,50 credo che sia una delle metodologie migliori per crescere con costanza senza un eccessivo rischio e con buoni risultati c'è oddio come si chiama quel ragazzo daniel mi sembra che ormai sarà penso più di 6 mesi forse o forse un anno che ha abbonato non mi ricordo lui gioca una partita al giorno una massimo due partite al giorno sempre quota 1,50 1,60 con cifre assolutamente abbordabilissime perché gioca 10 15 20 euro e mediamente fa 300 400 euro al mese perché perché magari su 10 ne prende 7 8 e con un budget così contenuto 10 euro anche se una volta le perdi non hai la smania di recuperarle come se avessi perso 100 euro e invece piano piano tutti i giorni a fine mese ha un ottimo utile quindi secondo me è una un'ottima partenza federico è partito da 30 sta a 200 euro in cassa ma vabbè federico sappiamo essere probabilmente più esperto di molti di noi quindi non non ho dubbi che sia così splinterone parte dall'ottimo dall'ottimo della selezione mind bet e poi aggiunge ragionamenti ma infatti è giusto che ognuno si crea il proprio il proprio metodo di studio comunque parlavo con Viviana cercheremo anche di praticamente in quella che c'è la selezione di cerca quote quei due esiti di metterci tutte le voci dei menu sopra quindi praticamente adesso ancora non lo fa però l'idea era qui in cerca quote di metterci tutte le opzioni di tutti questi menu e idem di qua in modo tale che magari volete cercare non so il multigall 1-3 con la scala pura potete selezionare tutti e due e vi tira fuori quel genere di partite gliel'ho chiesto oggi non so quanto sia veloce da fare però faremo pure questo insomma cerchiamo di di accontentare ogni vostra richiesta ok siamo arrivati alle 14 59 non sarebbe più facile un estrattore diretto delle quote finché che intendi con estrattore diretto c'è la quota da selezionare niente ci vediamo in un prossimo video mi stavo perdendo leggendo i commenti come sempre vi ringrazio di aver partecipato ci vediamo in un prossimo video il prossimo video